Guardi, Macerata non dimenticherà complessivamente Pamela. Io credo di conoscere la città. La città non ama molto esibizionismi, forme talvolta plateali. La città da questo punto di vista riconosce la piatas, riconosce il dolore in un modo molto discreto e al di là dei modi con i quali, le modalità con le quali si esprime la condoglianza, la vicinanza, Macerata vi assicuro che davvero avrà segnata la propria storia da questa morte molto cruenta e davvero ingiustificata.